Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Dalle 7 di questa mattina sono in programma lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento tramviario di Viale Trastevere, nel tratto compreso tra via Morosini e via Saffi. Per lasciare spazio al cantiere verrà interdetto l'attraversamento di Viale Trastevere, da via Glorioso a Viale Trastevere in direzione di Ponte Garibaldi. Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono previste deviazioni per le linee 44, 75, 115. Di notte inoltre cambierà strada la N3S. E sui mezzi pubblici resta obbligatorio fino a venerdì 30 settembre indossare una mascherina di tipo FFP2 a protezione di naso e bocca. In caso di mancato utilizzo, lo ricordiamo, il servizio potrebbe essere interrotto e potrebbe essere richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.